Torniamo a parlare del cinema calligrafico con una delle opere più interessanti, dirette dal regista Ferdinando Maria Poggioli, che si intitola Addio Giovinezza. Il cinema calligrafico della bella forma era nato durante il regime fascista ad opera di una serie di registi giovani che volevano opporsi a quelli che erano i generi di largo consumo dell'epoca, come la commedia dei telefoni bianchi o il cinema storico. E tutta questa serie di registi si rifugia nella letteratura, oppure nei drammi teatrali o di commedia ottocenteschi, e ne fanno delle puntuali riduzioni cinematografiche con un altissimo grado e livello tecnico. E uno dei più importanti registi di questa poetica è sicuramente Ferdinando Maria Poggioli. Classe 1897, inizia a dedicarsi al cinema nel momento in cui c'è il passaggio tra il cinema muto e il cinema sonoro. Dirige alcuni cortometraggi, ma si dedica ben presto all'attività di montatore. Suoi sono i montaggi di film importanti come La Signora di Tutti del 1934, oppure il film Diamanti del 1939, ed esortisce alla regia nel lungometraggio Arma Bianca del 1936. I suoi film sono quasi tutti ambientati in epoche passate, nell'Ottocento o nei primi del Novecento, con pochissime eccezioni di film ambientati nell'epoca appunto a lui contemporanea. Una caratteristica fondamentale della regia di Ferdinando Maria Poggioli è quella di una messa in scena molto raffinata e molto elegante, e uno dei suoi maggiori successi è certamente il film del 1940, appunto, che si intitola Addio Giovinezza. La sua carriera cinematografica termina nel 1943 con il bellissimo film Il cappello da prete. Muore prematuramente nel 1945 nella sua casa romana per colpa di un fornello lasciato acceso. Una morte avvolta nel mistero, secondo alcuni aveva tentato il suicidio, secondo altri si trattò di una semplice disgrazia. Il punto di partenza di Addio Giovinezza è una commedia teatrale del 1911 scritta da Sandro Camassio e Nino Oxiglia. Quest'ultimo è una figura fondamentale sia in campo letterario che in campo cinematografico. Dirige dei film di grandissimo successo sia con Francesca Bertini, dove la lancia nel film Sangue blu del 1914 sia il film di Lida Borelli a rapsodia satanica, realizzato prima della prematura morte avvenuta appunto sul campo della prima guerra mondiale. Il film è ambientato nel 1910 a Torino e segue la vita di alcuni giovani studenti universitari, tra cui Mario, interpretato da Adriano Rimoldi che si innamora di una sartina interpretata da Maria Dennis e ad un certo punto però il giovane ha delle attenzioni anche da una donna fatale di nome Elena interpretata da Clara Calamai. Il film esce nelle sale cinematografiche nel dicembre del 1940 con un grandissimo successo sia di pubblico e anche di critica. Siamo nel bel mezzo del periodo della cosiddetta autarchia cinematografica. Nel 1939 era stata varata la famosa legge Alfieri che aveva chiuso le porte del cinema americano sul suolo italiano e per cui la produzione italiana era aumentata notevolmente proprio per colmare questo vuoto lasciato dai film americani. Nel film troviamo una ricostruzione puntuale e precisa di quella che era la Torino di inizio secolo, del periodo della Belle Epoque. Gli interni sono stati girati negli studi di Cinecittà mentre gli esterni sono stati realizzati realmente a Torino. Viene fatto un bellissimo lavoro anche di ricostruzione musicale nel senso che vengono riproposti all'interno del film una serie di brani musicali molto notti tra il 1906 e il 1910. La protagonista principale del film è Maria Dennis che interpreta questa sartina che si chiama Dorina, un ruolo appunto che le valse degli elogi da parte della critica dell'epoca e che le impose come una delle più importanti attrici italiane dell'epoca. Veniva definita un po' la fidanzatina d'Italia e la sua filmografia è molto vasta e spazia dalla commedia dei primi anni 30 alla commedia di telefoni bianchi passando poi per ruoli drammatici. Infatti grazie sempre a Ferdinando Maria Poggioli sarà la protagonista anche dell'altro bellissimo film calligrafico che si intitola Si Signora. Al suo fianco troviamo Adariano Rimoldi che era stato uno dei belli del cinema degli anni 40, aveva iniziato la sua carriera a teatro nei goof, quello che veniva chiamato il teatro sperimentale e arriva al cinema proprio con Dio Giovinezza che è uno dei suoi primi successi e che riesce a dargli una certa visibilità nel mondo appunto del cinema. I suoi ruoli successivi saranno soprattutto in film ad avventura come nel dittico Capitan Tempesta e Leone di Damasco oppure il film di Mario Soldati Tragica Notte del 1942. Una però delle sue interpretazioni migliori è quella del 1943 nel film I bambini ci guardano, per cui diretto dal grande Vittorio De Sica, nel ruolo dell'amante della protagonista interpretata da Isapola. Nel ruolo della donna fatale troviamo naturalmente Clara Calamai, uno dei ruoli suoi più ricorrenti nella filmografia di questi primi anni 40 e questo cliché di donna fatale, di femme fatale, riuscirà a toglierselo soltanto grazie a Lucchino Visconti che lavorerà come protagonista nel suo film Ossessione del 1943. Addio Giovinezza è una commedia che ha un grandissimo successo in Italia. Pensate che il film di Poggioli è la quarta riduzione cinematografica e la prima di epoca sonora. Ne era già stata fatta una curata dallo stesso Nino Xiglia nel 1913, seguita da una realizzata da Augusto Genina nel 1918 con Maria Iacobini e poi una sempre diretta da Augusto Genina nel 1927 con Elena Sangro. Sono state fatte anche delle riduzioni televisive, una nel 1965 interpretata da Umberto Orsini per la Rai e un'altra sempre della Rai del 1966 in chiave di operette interpretata da Gigliola Cinquetti e Ornella Vanoni. Per rimanere informato sugli ultimi caricamenti del canale i classici del cinema italiano ricordati di iscriverti e di attivare le notifiche così non ti perderai più i film in premier e i nuovi video di cinema italiano in pillole. Grazie e buona visione!